Tutti noi siamo chiamati a rendere sostenibili i nostri comportamenti quotidiani, ognuno nei limiti delle sue possibilità. Nelle mie c'è l'impegno di fare qualcosa di più e questo impegno si è tradotto nel provare il percorso di guardia ecologica volontaria della città metropolitana. Un dovere anche in virtù dell'appartenenza a una generazione che ha molto consumato di questo ambiente, di questo territorio, che ha avuto comportamenti invece non sempre responsabili e sostenibili e credo che oggi ci sia il dovere di riguadagnare il terreno che abbiamo perso in questi anni e soprattutto trasferire alle nuove generazioni il senso di appartenenza a un sistema naturale che deve essere preservato e protetto. Grazie a tutti.